L'obesità ti costringe a camminare su una strada ripida e tortuosa, esponendo la tua salute a pericolose patologie. Non puoi continuare così. Oggi la tua vita può prendere una nuova piega. Mettiti in gioco. Puoi fare molto per cambiare. Segui una sana alimentazione e svolgi regolarmente attività fisica. La tua salute ne trarrà beneficio e scoprirai inaspettato benessere. Grazie a tutti.